Anche il comando di polizia di Fano in questi giorni ha effettuato 20 denunce, invece i carabinieri ne hanno rilevato 10 per violazione dell'articolo 650 del codice penale previsto dal decreto. In particolare nella giornata di ieri in Sassoni è stato fermato anche un giovane che alla vista della polizia ha tentato di scappare ma poi fermato, perquisito e denunciato all'autorità in quanto gli è stato trovato addosso un quantitativo di sostanza stupefacente. I controlli proseguono anche nelle aziende della regione Marche per verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, delle aree vaste, con telefonate finalizzate o fornire una prima informazione e valutazione con sopralluoghi che hanno il doppio scopo di procedere con provvedimenti sanzionatori fino alla chiusura delle ditte che non applicano correttamente le misure di tutela dei lavoratori. I controlli sono iniziati verificando 24 ditte in area vasta 1, 43 in area vasta 2, 10 in area vasta 3 così come in area vasta 4 e 19 in area vasta 5. Al fine di facilitare i controlli la regione ha elaborato una lista contenente i criteri da rispettare su cui vertiranno le verifiche. Intanto disposta una nuova autocertificazione per gli spostamenti. Tra le misure già adottate nella precedente, il dichiarante sotto la propria responsabilità deve affermare di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus Covid-19.